GILBERTO 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 Gil insieme alla sua bellissima figliuola, abbiamo fatto un esperimento interattivo oggi pazzesco, un grande musicista, un grande chitarrista, Pino Soffredini, suonava da casa sua, io cantavo da casa mia, Gilberto Gil rispondeva dal Brasile e tutti insieme in un abbraccio comune che questa musica che ci lega qui.